giovani buonasera e ben ritrovati nuovamente sul canale di neapolis 1926 iscrivetevi al canale è gratis svegliamo l'arcano visti che hai armato il tuo neapolis ma che c'è le due cinture no è il borsetto è il borsetto questa è la cintura e questo è il borsetto la borsa vera così avete abbiamo svelato l'arcano che dice le due cinture come mai no è la cintura del borsetto detto questo gruppo telegram in descrizione notizie h24 sul napoli anche se le notizie sul napoli sono poche e ai miei ragazzi oggi sono state anche brutte per via della questione one jesus se non avete visto ancora il video andate nella sezione dei video e trovate l'ultimo video caricato è proprio quello su one jesus sulla vicenda one jesus allora signori allora io stasera volevo parlarvi un po di questa cura conte no questa pozione magica che sta verano che che sta facendo cose meravigliose a questi giocatori del napoli benissimo la cura conte c'ha un elemento fondamentale l'elemento fondamentale di questa cura conte è lo stesso romelo lucavo e ragazzi pochi fronzoli voglio pochissimi fronzoli diciamoci la verità la cura conte sta funzionando sta funzionando veramente veramente tanto bene e incredibilmente sta funzionando su tutti i giocatori del napoli cioè non è che diciamo solo uno è migliorato di qua e di là quegli altri sono tutti come la vostra stagione fanno schifo di qua e di là invece no invece no invece no invece no perché stanno tutti migliorando e il racmani sembra essere ritornato quello che era con kim diciamoci la verità è vero anche che se gli metti di fianco un signor difensore waiu è normale che non potrai mai sfigurare vi ricordo no kim con racmani culibali con raul albiol ragazzi quando metti vicino un giocatore che che c'ha la leadership no della difesa tu lo vedi subito un leader di difesa l'anno scorso il napoli non ce l'aveva il leader di difesa doveva essere nata poi nata non si è rilevato quello che doveva essere e fu un flop e fu fatto giocare sempre one jesus quest'anno invece anche lo stesso racmani se non sbaglio è il giocatore che ha vinto più contrasti aerei nelle top nei top 5 campionati d'europa quindi ogni numeri veramente alti ha messo dietro gente come van dyke come bremer a boh visti che si parla tanto di bremer negli ultimi giorni per via del crociato che gli è zombato io vorrei dire qualcosa però non dico niente perché poi qualcuno mi ha scritto questa diatrino che fai quando guidi la macchina quando ci sono le altre macchine signori strada di montagna pensate da massa marittima anzi googlatelo massa marittima così vedete anche dove abito un ragazzino penso c'è avuto le 16 anni 17 anni ragazzino con un monopattino elettrico ditemi voi se è normale questa sera che strada buia che non so vero no cazzo io vi vorrei far vedere cosa si vede fuori vi faccio vedere cosa si vede fuori così ve ne accorgete a vedere ecco questo è quello che vedo non so vero e niente non vedete quello che vedo io fuori comunque è pieno di cinghiali e pieno di e chi sta con monopattino e luna c'è la sera dimmi te vabbè tralasciando questo non parlerò mai più perché qualcuno ha detto fai il teatro quando guidi la macchina io non faccio nessun teatro non ti preoccupare non ti preoccupare non faccio più nessun teatro comunque a parte questo stavo dicendo la cura conte sta funzionando anche su racmani non solo sullo stesso lukaku io vi vorrei parlare un po di anghissà di cosa vogliamo parlare di zambuanghissà vogliamo parlare di zambuanghissà che da quando c'è antonio conte sulla panchina addirittura sembra anche migliore di quello di luciano spalletti vogliamo parlare di questa cosa parliamone perché voglio anghissà si è trasformato è diventato è fiorito un'altra volta io sarei stato molto curioso di vedere un heli fermas sotto le mani di antonio conte voglio sarei stato veramente molto curioso di vedere elmas con con antonio conte che non sia mai che l'anno a gennaio il napoli lo piazzi con nuovamente come colpo visto che elmas c'è ancora la la foto profilo con lo scudetto vinto a napoli e poi la sella quegli altri giocatori che sono migliorati tantissimi ragazzi anche politano a livello difensivo sta facendo un campionato mostruoso siamo inizio campionato ricordiamocelo perché poi qualcuno dice tu parli sta ma inizio campionato non so che siamo inizio campionato però il napoli attualmente è primo due punti di vantaggio sulla secondo tre sulla terza e quindi per ora io mi godo il momento abbiate pazienza visto la passata stagione cura conte che ha funzionato anche sullo stadio diego armando maradona perché il napoli con la vittoria fatta contro il como ha eguagliato le partite vinte della passata stagione in casa quindi quindi rendiamoci conto il maradona è tornato a fare il maradona come conte voleva perché conte alla prima conferenza stampa lo disse subito io so cosa significa giocare allo stadio diego armando maradona ci sono venuto e so cosa significa per gli avversari giocare con tutto lo stadio diego armando maradona che ti mette pressione il maradona deve fare il maradona e ci serve il dodicesimo uomo in campo ragazzi qui si parla di un napoli lecce già sold out con previsioni già sold out cioè questa è una cosa che a noi tifosi riempie il cuore no perché tu dici vedi allora vedi che la gente è ritornata ad appassionarsi al napoli ecco questa è una cosa che però piccola postilla quando il napoli perde è di pochi quando il napoli vince di tutti questa è una cosa che il tifoso napoletano deve anche cambiare come mentalità perché a me questa mentalità così chiusa a me non mi piace sinceramente se sei tifoso del napoli io ripeto sono tifoso del napoli dalla serie c quindi pensate po quanti anni sono passati boh mi ricordo il play play a play off con l'avellino perso al primo anno di serie c un altro anno di serie c poi subito le soli subito il serie b e serie a quella doppia cavalcata mostruosa del napoli di laurenti sedia di regia ecco a parte questo poi la cura sta funzionando pure su quara perché quara non è quello della passata stagione abbiate pazienza io quando sento dire che quara non merita non merita il rinnovo deve andare via perché di qua perché di là io ragazzi già l'anno scorso quara stava facendo benissimo e quara andò a me a due assisti meno tre assisti meno rispetto alla passata stagione se non erro alla stagione dello scudetto quindi quara dovrebbe essere nata anche in doppia cifra l'anno scorso quindi quara la media l'ha mantenuto anche la passata stagione con un napoli disastroso però con te lo vedi e poi l'intervista che ha rilasciato oggi anzi intervista che trovate o agliù qui su youtube andate nella sezione video secondo video di giornata quindi scorrete di due video e trovate l'intervista a quara dove dichiara di volersi qualificare con la georgia al mondiale scusatemi la strada è un po dissestata vuole classificarsi al mondiale con la sua georgia e vincere la champions league con con il napoli signore grazie grazie mille non andate più dietro marcia noi facciamo un patatrack ecco e quindi questo era il video di serata no ve l'ho detto che oramai secondo me un video a serata si può fare perché sapete ora c'è la sosta nazionale domani uscire al post partita della nazionale naturalmente però bisogna anche parlare di queste cose non c'è il campo bisogna aprirsi un pochino a queste vicende extra campo domani tagliano l'erba la macchina non la metto la mette giù al garage poi mia moglie domani la sposterà a parte no domani è festa quindi non sposto niente voglio rimanere a mattinare ma questa macchina la metti dietro casa detto questo a you fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti io vi ringrazio vi auguro una buona nottata a you e noi ci vediamo domani con ulteriori video perché vuole parlare un po di questa questione maldini il figlio di maldini che aiuti nazionale meriti non meriti diciamo una cosa piccola anteprima naturalmente se c'è un nome importante è più probabilità di finire in prima squadra o rimanere in serie a perché voglio il nome conta credetemi in un posto come l'italia che va avanti raccomandato avere un nome come maldini vi è utile detto questo iscriviti al canale sempre comunque forza napoli ciao a you e buonanotte